Per sentire la voce dei quartieri oggi ci siamo fermati a Campedello, una frazione immediatamente a sud di Vicenza, partendo da Borgo Berga e l'inizio della Riviera Berica. Un quartiere caratterizzato dalla presenza della meravigliosa Villa Palladiana La Rotonda, un monumento a cui tutti i residenti sono affezionati, ma per cui si dovrebbe fare di più. I turisti ci manca il parcheggio lì, per la rotonda, mettono macchina qua e là, abusivamente. È il parcheggio lì che manca, e sì, lo spazio c'è. Abbiamo una bella villa, se non ne diamo una possibilità di vedere, si trascurano le visite naturalmente. Altro tema ricorrente, oltre alla sistemazione di strade e marciapiedi, è la necessità di potenziare l'illuminazione. Questa zona qui che è un po' lasciata così, soprattutto la sera, un po' così lasciata senza luce. Come luce a Riviera qua non è che sia tanto, tanto, tanto illuminata bene. Con l'illuminazione sì, dopo ci sono anche, per esempio, anche le piante da fare potature, quelle cose lì. Ci sono cosette che si potrebbero fare. Qui c'è un sentiero che davanti? Sì, sì, beh, anche per esempio qua il nostro parchetto, che è qua, dovrebbe essere un attimino, anche le piante, fatto un po' più curato. E già, a Campedello, dall'anima green, forse per la vicinanza con la balletta del silenzio, proprio non va giù la manutenzione del verde pubblico. Non servono progetti faraonici, ma la cura delle piccole cose. La manutenzione del verde non va via tanto bene. Anche le piante dovrebbero tagliarle un po', perché se viene nevica, nevica, se spaccano tutto. Portare le piante, naturalmente, perché se vede qualcuno si arrabbata e dopo. Faccio parte del gruppo dei alpini di Campedello. E vuole farci una segnalazione? Eh, vorrei fare, segnalare che hanno appena cambiato il pino del monumento, del Campedello, e è già morto. E quindi? E quindi bisogna cambiarlo.